Un saluto a tutti da Android Blog e benvenuti a questa nuova video recensione Oggi ci occupiamo di Numbers della settimana enigmistica Un gioco molto interessante che si basa sull'unione dei numeri Ovviamente con il nostro dito possiamo unirli in ordine crescente e decrescente Casuale, sempre unendo numeri vicini E possiamo unire i numeri uguali Tutto questo per ottenere il maggior punteggio possibile nei vari round Il gioco è diviso in 3 round, ogni round dura 2 minuti Ma vediamo come funziona Qui ci troviamo nella schermata principale del mio account che ho precedentemente creato Clicchiamo su inizia nuova partita Abbiamo 5 diversi menu L'opzione sfida un amico Ovviamente per sfidare un nostro amico L'opzione sfida un amico di Facebook Se vogliamo sfidare un nostro amico su Facebook La sfida casuale Abbiamo il cercamico che possiamo aggiungere ai nostri amici Per poi sfidare tramite la modalità sfida un amico Infine abbiamo la modalità allenamento In questo caso non clicco su nessuna Visto che ho già una partita in corso Clicco su questa partita Mi trovo al terzo round Ovviamente sto perdendo E clicco su gioca Ecco qui c'è questa tabella E noi dobbiamo unire E noi dobbiamo unire o numeri uguali O numeri in ordine crescente o decrescente O in modo casuale In questo caso 3, 2, 1 Decrescente 9, 8, 7 Decrescente 2, 1, 3 Ad esempio è casuale Ma c'è sempre 1, 2, 3 Che sono tre numeri vicini Bene È un gioco abbastanza interessante Molto divertente se giocato con gli amici E che dirvi di più Con questa video recensione ho terminato Un saluto a tutti da Android Blog E alla prossima Ciao